Entro nelle vostre case Attraverso porte che non puoi vedere Con forme e volti che non avresti mai immaginato Sono un sussurro Un rumore Ho atteso che arrivasse il mio tempo Mentre il tuo è ormai finito Non puoi prendermi Non puoi fermarmi Calmo e paziente Ti scivolerò fra le dita E colpirò E allora quando la tua gola inizierà a essere secca Quando le gambe non sosterranno più il tuo peso Quando i tuoi polmoni faticheranno Finalmente Capirai Non sono un esercito Non sono un uomo Sono un credo Acquistando Xbox One S riceverai Assassin's Creed Origins No Non è un progetto Tipo di video Non è un progetto Diario